Il Consiglio regionale ha partecipato al corso di formazione per giornalisti, la comunicazione in social media, esperienze a confronto organizzato il 27 ottobre dall'Assemblea Legislativa della Lombardia con l'Ordine dei giornalisti Lombardo. L'appuntamento ha visto un confronto ad ampio raggio sulla comunicazione, dalla trasformazione dei giornali fino all'uso del digitale nelle pubbliche amministrazioni, aspetto sul quale il Consiglio regionale del Piemonte ha portato la propria esperienza.